I temporali, le grandinate e il freddo anomalo, oltre a ritardare le partenze per le vacanze e tagliare le gite fuori porta, hanno distrutto infatti numerose coltivazioni cerealicole, dai gelati alla frutta estiva, che sta registrando quotazioni insostenibili. Secondo stime Ismea, i prezzi delle produzioni hanno perso oltre il 34% rispetto allo stesso periodo del 2013, con punte del 40% per le nettarine, ma anche susine, meloni e cocomeri, per i quali non si riescono a coprire neanche i costi della raccolta. Nell'immediato, Coldiretti sostiene la richiesta straordinaria del ministro Maurizio Martina all'Unione Europea per un intervento straordinario sulla frutta estiva. In prospettiva chiede invece al governo di regolamentare il sistema degli sconti e della formazione dei prezzi, con maggiori controlli anche sulla merce importata.